è un po buio gentili ascoltatori è decisamente un po buio anche questa mattina infatti ho dovuto modificare l'idea che volevo farvi vedere oggi il buongiorno dal bosco per raccogliere le castagne però non si vedeva un tubo allora vabbè abbiamo dovuto modificare allora siccome siamo qua a Sagnino alla chiesetta di Quarcino e con me c'è anche un'atleticissima Shura Ornella che tra poco farà il risveglio muscolare perché qui c'è un bellissimo parco calisthenics giusto sì parco calisthenics l'ha inaugurato l'ha inaugurato il sindaco qualche mese fa e con gli attrezzi per fare gli esercizi per il risveglio muscolare buongiorno è scuro e buio ecco per fortuna c'è un un piumino che almeno si vede saluti a tutti ciao buongiorno signori buongiorno Shura Ornella atleticissima questa è la chiesetta di Quarcino vero Ornella Cristina Daniela Teresa Luca Cinzia Cristina Enrico Ale Daniela Simona e Cristina e Giancarla buongiorno a tutti voi buona giornata buon mercoledì mattina Giancarla buongiorno siamo a Sagnino siamo in una delle giochi in casa in una delle popolose frazioni di Como siamo sopra Ponte Chiasso per per dire sotto di noi c'è la Svizzera e questo allora questo è il centro sportivo del gestito dalla CSU dalla Comoservizi Urbani e questa ma questa è la bellissima chiesetta vero di Quarcino facciamo il risveglio muscolare perché qua buongiorno Enrica Orazio Lacanossa Silvia Graziella siamo a Sagnino Graziella siamo esatto uno dei più popolosi quartieri di Como poi ciao Rudy buongiorno un saluto a Wonder Ornella Carmen Adriana che bella la chiesetta di Quarcino è molto bella Adriana allora Adriana e Rudy sono due dei festeggiati di ieri ciao anche Guido ciao Giuseppe buongiorno Carmen Melissa vediamo se c'è qualcuno oggi che festeggia qualcosa Marinella Anna buongiorno Sciura Ornella buona giornata ciao Anna ciao anche a Rosa Maria graziella buongiorno ciao a Margherita dalla Sardegna a Roberto ad Adriana e poi da Mimmo e Maria da Fino Mornasco ciao Mimmo e ciao anche la signora Maria buongiorno a voi un caro saluto Agostina e Caterina Rita che ci scrive da Porlezza buongiorno signora Rita buongiorno Elisabetta certo che adesso alla mattina le proprie scure Elisabetta a Tagheresun ma settimana prossima cambia l'ora e forse no Marina buongiorno annunciata Cecilia Adriana da Missaglia Ilaria e Stefano buongiorno no settimana prossima io credo sarà certamente più chiaro qui a Sagnino non tutti lo sanno ma ve lo facciamo vedere c'è questo bellissimo parco Calisthenics con gli attrezzi e lo so non è molto illuminato è vero hai ragione è buio ancora praticamente ancora buio perché sono le 7 e 25 ma è ancora alle proprie bui 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 Gloria Minerva ciao da Vighizzolo poi c'è Roberto Monica ciao da Griante la nostra amica Monica Gloria e il poeta molto originale questa chiesetta prime luci del mattino in dolce e lieta compagnia con la Sciurornella e Marco ciao caro Mario un saluto anche dalla Sciurornella nona domenica Stefano buongiorno Ilaria buongiorno Adriana buongiorno Cecilia buongiorno a Madù Franca e Candida c'è anche il portatelefono esattamente bene buongiorno Cinzia risveglio muscolare con la Sciurornella che poi in effetti scusa noi diciamo questa cosa ornella però in realtà sarebbe davvero una cosa bella da fare è una buona pratica è assolutamente Giacomini Agnese buongiorno ecco parco calisthenics lo proviamo con la Sciurornella è un po' bagnato che è un po' bagnato cara Sciurora dai va bene ecco questo qui è un altro esercizio che devi fare è un po' bagnato devi devi far così va bene Sciuror risveglio muscolare Sciurora è pazzesco Cecilia sono in vacanza immersa nei sassi di Matera stupenda stupenda Matera assolutamente sì adesso stanno registrando il Matatara Margherita buongiorno a Cosimo a Luca buongiorno a Paola da Ferrara come fai a sederti non posso sedermi devi farlo così si fa ecco così mi bagno il culetto allora wow ma fa anche risveglio sei fantastica fantastica Sciurora hai fatto hai fatto un risveglio ma guarda da due vuoi fare questo e io faccio questo sì certo facciamolo no no volentieri allora tu mettiti qua ciao poi a Orazio a Canossa acqua qui Ornella qui quasi acqua vero non è è un po' è umido ecco la cosa che vogliamo dire è che è proprio umido Orazio guardate bene molto bene Ornella devo dire che no perché sono degli esercizi adatti a tutti che uno può fare davvero ogni giorno in maniera buongiorno a Maria a Daniela qua sul monte a Patti bravissima e coraggiosa la Sciurora la Sciurora ormai fa tutto affronta tutto ciao Graziella da Grandola buongiorno Grandola e Uniti Dario invece dall'ambasciata italiana a Berlino Cosimo poi Damiano Orazio Rosella Ferni Virna oggi Cantù al buio dice Agnese anche anche qua tra poco che secondo me Sciura ci spengono i lampioni alle sette e mezza proprio al buio buio Luciana Luca Paola Loredana Enrico ha detto alle riusada si riusada è giusto così riusada oh la la bravo Enrico buongiorno Enrico carissimo un saluto a te a Sergio anche un altro amico Oliver Raffaella dalla Valcavarnia da Cusino buongiorno signora Raffaella la ginnastica che ti piace di più qual è vediamo ah è questa qua seduta buongiorno a voi ragazzi eccola qua la Sciura Ornella seduta qui al parco di Sagnino di fronte alla chiesetta di Aquarcino che abbiamo visto prima con un buio che è ancora importante è molto umido è molto molto umido buongiorno alla nostra Dolores che ti abbraccia buongiorno anche alla nostra Sandra buongiorno a Giovanni a Carla ad Angela con il cambio dell'orario la prossima settimana ci sarà più luce asperem ciao Emanuela buongiorno anche a te un saluto anche a Marcello dormiamo un'ora in meno Carla buongiorno è domenica un'ora in meno si è vero Raffaella Sergio Oliver Valeria Luca Raffaella ci ricorda che sono già le sette e mezza e qui non suonano le campagne noi qui dalle 8 ah ok Cinzia anche lei buongiorno Cinzia buongiorno un'altra Cinzia Rossano da Rovello Porro Sergio buongiorno buongiorno a te a Rita sono arrivata in tempo buona giornata grazie Rita grazie di esserci comunque ed ecco l'atleticista oggi ha fatto un risveglio muscolare pazzesco la Sciurornella è scatenata vabbè che vi devo dire ecco questa è la chiesetta di Quarcino che è veramente molto molto bella dove abbiamo iniziato e dove chiudiamo il nostro saluto di quest'oggi è ancora buio come potete vedere ci sono i lampioni per fortuna perché è veramente buio dovevamo aspettare quindi settimana prossima che così avremo un po' più di luce speriamo Rita Mirela buongiorno a voi un saluto a Silvia ma che bella la chiesetta verrò a farmi una camminata anche al parco grazie a voi un saluto dalla Toscana bene Silvia ci fa davvero piacere questa è la chiesetta questo è l'esterno la chiesetta di Quarcino che è proprio la frazione di Sagnino però questa è la frazione del proprio Quarcino e questa è la chiesetta l'abbiamo fatto vedere anche all'interno cara Silvia qualche anno fa poi c'è tutto il percorso fino all'acqua c'è l'ossario ah questo è l'ossario è vero Rita c'è anche il nostro focacciaro il nostro Roby come mi manchi stamattina allora schietti qualche giorno Roby perché credo che Roby ormai Roby sei quasi pronto con i panettoni credo di sì quindi Roby appena possibile ovviamente il nostro buongiorno da lì con il panettone allora grazie a Dolores grazie a Lucia un saluto a te a Rita a Silvia che apprezza adesso vuoi andare a prendere le castagne questa è la chiesetta ciao anche a Mary cambio dell'orario sabato sì sabato giusto ok Monica Rosina i 7 e mezza ciao Sergio ciao Raffaella Rossano Cinzia altra Cinzia Dolores ben salutata Giovanni Emanuela Paolo che ci ricorda 15 a Saronno e oggi se ne ho visti prima in macchina ce ne erano un po' di meno mi sei qua 13 mi sembra però non fa freddo no è umido Angela buongiorno sabato e domenica si dorme un'ora in più e si mettono le lancette indietro come si dorme un'ora in più si dorme in più o in meno no se si mettono le lancette in avanti non metti indietro si mettono in avanti esatto buongiorno a Paola al frizz a Sara Marco salutami Rosa Maria la mia mamma certo Sara e te la saluto assolutamente un saluto anche a Paola a Marinella consentimi a proposito di saluti però mi sembra che si chiama Gabriella la sciura Gabriella che tutti i giorni ci segue non mi ricordo il cognome però lei è la mamma di Morris Corti il socio di Tote DJ e allora la signora Gabriella tutti i giorni ci segue ho visto l'altro giorno Morris la prima cosa che mi ha detto tutti i giorni la mia mamma continua a scriverti e ti saluta e allora saluto la signora Gabriella la mamma di Morris che è uno è un socio è il socio di Tote lavorano assieme sono due dei DJ più famosi apprezzati DJ intrattenitori insomma va bene Gabriella buongiorno mi sono ricordato anche di te poi Emilio Sergio come ci si arriva alla chiesetta alla chiesetta è Montolimpino si prende per Sagnino poi ci sono indicazioni chiesa romanica è una chiesa romanica Gian si torna indietro di un'ora le lancette quindi si dorme un'ora in più buongiorno a Marilena se si torna indietro si tirano indietro le lancette un'ora è vero si dorme un'ora in più e ho capito ma poi se è più buio allora no se si tirano indietro non ho capito a quest'ora sono le sei e mezza a quest'ora sono le sei e mezza quindi ah no quindi si sarà più chiaro ok ok si qui di Gianno ok 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 si mette un'ora indietro dice Marina si dorme un'ora in più ok Marina perfetto perfetto ciao Emilio anche Manuela si dorme un'ora in più urrà va bene ciao Sergio ciao Corrado si è facile Sergio per venire a Sagnino vedere la chiesetta veramente quella è la chiesa parrocchiale questa qui è la chiesa parrocchiale questo è il centro sportivo di Sagnino e questa è la chiesetta di Quarcino allora Ursula Angela Ornella buongiorno Ornella buongiorno Luca Marina Emilco il comandante della polizia locale che ci saluta sempre anche lui Marilena ciao buongiorno Emilio Silvana Paola Marinella Paola Paola Sara Fritz abbiamo salutato credo tutti ciao ciao Ursula è l'ultima noi ci salutiamo grazie già felice ma anche io e sarà tutto preso con la cazzuola passate a bere il caffè Roby va bene Roby Focacciaro sempre un amico veramente ciao Roby allora prepara Roby sei un grande presto i panettoni del Roby sì perché a me piace perché me li mette sempre a testa in giù in voglia di andare lì e fare Roby veniamo appena possibile ciao Antonio ciao Ivana grazie al Focacciaro come sempre grande amico di Ciao Como un saluto ciao Shura buongiorno ciao a tutti ciao ragazzi buongiorno adesso vado a cambiare i pantaloni con questo ma guarda che anche tu c'hai io esatto ciao ragazzi grazie 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 a tutti.